Per delega del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si comunica che il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli sezione antiterrorismo, ha dato esecuzione tra il capologo partenopeo, zona Borgo Sant'Antonio Abbate e Sanità e la provincia di Caltanissetta un'ordinanza di custodia cautelare in caccia remessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di sette soggetti di nazionalità pakistana, gravemente iniziati dai delitti di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione. Le attività investigative hanno tratto origine da segnalazioni di operazioni sospette e dalle conseguenti attività finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare le fiamme gialle hanno analizzato i conti di pagamento intestati a soggetti extracomunitari provenienti a Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kyrgyzstan verificando che erano state effettuate su rispettivi conti correnti molteplici apporti di liquidità provenienti da ricariche di 345 carte di credito estere Stati Uniti e Canada intestate a ignari correntisti. Alle periodiche di cariche seguivano contestualmente bonifici verso altri rapporti finanziari accesi all'estero intestati a soggetti terzi di origine araba destinati principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Nel corso degli approfondimenti investigativi è emersa anche la produzione e utilizzazione di almeno 30 documenti di identità falsi utilizzati per l'apertura di conti correnti in vari paesi europei, riportanti le foto dei soggetti pakistani e i dati anagrafici di soggetti diversi. Di conseguenza sono stati contestati i reati di cui è l'articolo 497 bis e 648 ed il GIP ha ritenuto di applicare la misura di custodia cautelare in carcere come richiesto dalla procura della Repubblica. Si tratta di un gruppo criminale organizzato che ha sfruttato frodi sulle carte di credito principalmente americane e carandesi attraverso sistemi di phishing per accumulare soldi versati poi su conti correnti italiani. Da qui i soldi sono stati trasferiti verso conti correnti di altri paesi europei come il Belgio, l'Olanda e la Germania dove sono stati gestiti da altri complici e l'ipotesi che si possa trattare di finanziamento al terrorismo è attualmente al centro di una richiesta di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia per cui siamo convinti che ci saranno dei seguiti.